Buongiorno, mio nome è Luca Anzaloni e sono a parte della gruppa di ricerca di Roberto Serra e Marco Villani. In questa parola, vi presento a voi la mia attività di ricerca sui comportamenti critici in un sistema artificiale e naturale complessi. Quindi, mi presento la cosa è la critica. Una ipotesi generali è che il sistema in un stato critico ha alcune avventure con rispetto a altri sistemi in tassi performanti e, in particolare, in un ambiente cambiamento. E, se è vero, questa ipotesi afferterà la nostra visione nell'evoluzione della biosfera e della tecnosfera. Quindi, è anche provato che sia utile a designare sistemi artificiali che possano uscire quelli che non hanno queste proprietà. E, come conseguenza di questa ipotesi, abbiamo studiato due diversi tipi di sistemi. E uno, dove i elementi sono semplici. Per esempio, possono fare operazioni atomiche come funcione di boolean. e uno, dove i elementi sono semplici più sofisticati operazioni. Il primo sistema è basato su un network di boolean, che è un graffo con un nodo, che può assumere il valore 0 o 1. e con ogni nodo è anche associato una funzione di boolean. Abbiamo chiesto questo modello perché è possibile avere una definizione di critica. e perché questo tipo di sistema può admetere come stato asintotico solo cicli o punti fixati. Quindi, fokussiamo su questo stato asintotico che sono anche chiamati attraptori in order to better explore what is the outcome of the network and as you see in the picture on the left we found an interesting result that is an interesting peak of the median of the attractors under a specific range of the diffraction of the node that we are fixed. The second system that we have studied is an agent based model that models that interaction between artifacts and an agent that are the main entities of our models and we choose this model because we are able to design a biggest variety of application. So, our preliminary results show two different types of behaviors. in one case in one case in one case our system show an explosion of the diversity and in the other cases the system reach more rapidly a limited output of diversity. the red line is the explosion of the diversity of the output and the black line is the system that reach this equilibrium state. To conclude our future research will concentrate on this kind of this model because, as I said we can reach more application we can design more application with this type of model and my future research will be focused on the defining criticality in agent based model and exploring the advantages of the criticality the critical system and finally we are waiting for we are going to design an easy-to-use simulator in order to analyze different model alternatives. I lost my publication sorry thank you for your attention. just a quick question since you mentioned that could you say us about your publications? ok I public some proceedings in two conferences one is the workshop the Italian workshop of artificial life and evolutionary computation and the last one proceeding is for IEFER ER for where I public my first research about random Boolean networks here when we help you the 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 Grazie a tutti